ci ritroviamo in compagnia di loren benvenuto eccoci ciao a tutti grazie loren sei tra i finalisti di saremo giovani non so se ti è giunta voce a riguardo a giudicare a giudicare dal tuo sorriso lorenzo credo proprio di sì e per rompere il ghiaccio ti chiederei proprio di provare a descrivere la sensazione che hai provato quando ti è giunta questa lieta novella no certo allora ti dico subito in realtà io avevo come obiettivo iniziale quello di rientrare nei 49 nella prima fase quello era l'obiettivo per fare le selezioni dal vivo no esatto ci siamo entrati e già quello è stato un traguardo assurdo detto no vabbè assurdo ce l'abbiamo fatta abbiamo raggiunto il nostro obiettivo nel momento in cui ho fatto l'esibizione l'audizione è andata molto bene a quanto pare il giorno dopo ricevuto la chiamata ovviamente per me è stata una cosa super inaspettata perché come ti dicevo prima non era nemmeno proprio nei programmi per quanto fosse grande la cosa e nel momento in cui ho ricevuto la chiamata sono scoppiato a piangere completamente c'era mia madre anche è stata una scena molto bella c'era mia madre di fianco che ha si accorta con me insomma di questa notizia e si è messa a piangere anche lei è stata una cosa bellissima e io ti dico la verità forse ancora oggi ancora non lo realizzo perché è una cosa talmente grande e bella che è difficile realizzare in così poco cioè è successo tutto così velocemente e però ti dico anche che insomma sto cercando di lavorare al meglio per portare il meglio di me stesso poi su quel palco dato che appunto è una situazione così grande è una possibilità così grande cercherò di sfruttare al meglio ma prima che arrivasse questa telefonata che commovesse te e tua mamma ci speravi un po cioè dentro di te sapevi di aver fatto una buona performance una buona audizione e di soddisfatto no sì certo sapevo di aver fatto una buona esibizione nel senso che avevo ricevuto comunque l'applauso c'era c'era stato questa questa dimostrazione da parte del pubblico di insomma di esibizione riuscita ecco però mai avrei immaginato insomma di passare anche perché nel senso sono stato affiancato da nomi comunque molto grandi gente già molto famosa e conosciuta rispetto a me che insomma non sono nessuno non mi conosce nessuno come giusto che sia e quindi la in realtà non non me l'aspettavo ovviamente ci speravo perché sì ci speravo era una cosa in cui ci ho messo il cuore e fortunatamente insomma è andata bene sei caduto piacevolmente dalle nuvole come si suol dire e fiore d'inverno è il titolo del brano che ti ha permesso di arrivare a giocarti un biglietto da visita per il festival di febbraio nella finale appunto di saremo giovani che si svolgerà il 19 dicembre ci racconti come è nato questo pezzo allora sì in realtà è nato in una maniera molto semplice ovvero come un po tutti i miei brani nascono o al pianoforte alla chitarra in questo caso è nato al pianoforte e parlavo con il mio team insomma diciamo ma dobbiamo provare a fare una canzone sarremese e ho detto vabbè c'è un po di febbre provo a fare qualcosa in realtà quel giorno avevo la febbre ma mi sono messo al pianoforte ho immaginato la scena ho immaginato la scena di suonarla dal vivo in un contesto sarremese ed è nata così in realtà molto molto naturalmente e diciamo la cosa che ha colpito subito diciamo me il mio team oppure chi l'ascoltava era il fatto che fosse una canzone abbastanza arricchiabile ecco anche il ritornello cioè una canzone molto semplice però è comunque facile da ricordare e quindi è nata così naturalmente sta facendo il suo viaggio il testo del brano riflette su esperienze passate ma senza rimorginare su ciò che è accaduto lo trovo la trovo una riflessione sana serena giusta perché ci sta avere anche no nostalgia di qualcosa che abbiamo perso di situazioni che non viviamo più no certo sì è un è un brano d'amore lo ammetto scrivo quasi sempre canzoni d'amore infatti anche per questo vengo un po' punsecchiato da chi mi sta intorno vicino che dice scrivi sempre canzoni d'amore dico sì è vero purtroppo e sì allora è un brano che parla appunto di una storia d'amore passata finita e il titolo diciamo nasce perché volevo creare una sorta di contrapposizione già dal titolo quindi per esempio il fiore mi sta diciamo riporta un po' l'aspetto positivo di questa di queste emozioni di questo amore vissuto quindi in senso positivo e d'inverno però appunto perché è nato in un periodo sbagliato per vari fattori e quindi nulla all'interno di questo di questo brano parlo di amore di una cosa passata in maniera nostalgica ma comunque superato assolutamente poi è bella questa metafora del fiore d'inverno ho pensato alla bougainville no pensato a quel fiore che nasce proprio tra le nevi no e tu che rapporto hai personalmente con la nostalgia con la nostalgia sono una persona molto nostalgica nel senso che quando vivo qualcosa che mi emoziona qualcosa che mi rimane poi nel tempo ci ripenso spesso in generale su qualsiasi cosa e ho un rapporto quasi di amicizia in realtà sono molto molto nostalgico io cioè quando quando vivo qualche rapporto bello o qualsiasi altra situazione che mi rimane lo porto con me per molto tempo è difficile anche che mi ci distacchi ma la trovo una cosa abbastanza naturale insomma che faccia parte anche delle persone sensibili come me magari tu sei giovanissimo classe 2001 per questo ti chiedo se pensi che quello della nostalgia sia un po anche un tema generazionale oggi se avverti anche tra i tuoi coetanei questo sentimento che paradossalmente può anche essere un modo per pensare meno al futuro quello appunto di rimangare in qualche modo il passato sì allora sì c'è una generazione nostalgica sì ti dico di sì perché perché probabilmente viviamo già da ragazzini immersi no in questo in questo mondo anche dei social se vogliamo che sta un po rivoluzionando il mondo odierno e che ci porta a vivere le cose prima magari di viverle personalmente viverle attraverso il telefono attraverso la rete e quindi poi nel momento in cui ci accadono ci rimangono anche in maniera più forte o non so magari ci colpiscono in maniera più forte e quindi sì credo siamo tutti un po nostalgici al giorno di oggi e poi quella che canti è una situazione di insoddisfazione generale la festa a cui fai riferimento quel sottofondo musicale alla festa che canti nel testo sta ad indicare proprio una sorta di disagio nei confronti di situazioni magari che sono superficiali forzate perché questa è una società improntata sui sorrisi quasi come se la nostalgia non fosse contemplata fosse da nascondere sotto il tappeto no quando è umano invece avere momenti diciamo un po di down se vogliamo a qualsiasi età tra l'altro tu che ne pensi sì allora io penso che faccia parte un po insomma della del viaggio della vita avere alti e bassi come in tutte le cose e penso che ci facciano bene insomma io ormai sono arrivato a un punto in cui nel momento in cui ho un periodo di down di qualsiasi tipo mi prendo il tempo per vivermelo perché non serve insomma cercare di metterlo da parte c'è bisogno di fermarsi e viverselo perché questo poi ci fa crescere da un punto di vista emotivo ma anche di vita e siamo poi nel momento in cui riusciamo a superarlo poi ci sentiamo sicuramente più più forti ci fortifica e adesso un ulteriore sorriso cerco di strappartelo io perché devi sapere lorenzo che in questi anni ho fatto tante interviste diciamo pure un discreto numero di interviste ma tu sei il primo artista che intervisto che è nato e che vive a disernia diciamo pure è la prima persona che incontro e quindi esiste no non è come la città immaginaria di coda city metropolis atlantide o paperopoli scherzi a parte il pretesto per chiederti che tipo di influenza musicale di vita si respira nella tua città e quanto si è rivelata utile per la tua formazione allora ha influito sotto diversi aspetti nel senso che avendo in una città piccola io ho sempre avuto sentito il bisogno di ampliare la mia conoscenza quindi uscire un po fuori dagli schemi perché sappiamo insomma che le piccole città non ti danno la possibilità e l'opportunità di di crearti chissà che che via no che strada però sono stato fortunato da un punto di vista musicale perché sono stato seguito da da un maestro il mio mentore che mi piace ricordare andrea antonilli ho cominciato a 11 anni a studiare chitarra con lui e lui mi ha mi ha indirizzato non solo dal punto di vista musicale della chitarra proprio dal punto di vista musicale in generale no cioè di avere sempre una mentalità aperta di avere la testa bassa e studiare non insomma di rimanere con i piedi per terra per qualsiasi cosa quindi questo mi ha aiutato molto il fatto di vivere in una città piccola mi ha limitato nel senso che ho avuto poche possibilità di esibirmi magari però insomma sono andato a cercare anche fuori perché poi sono andato a studiare a milano però mi ha dato lo spunto la forza gli stimoli per uscire fuori anche da da questa piccola città quali ascolti quali artisti hanno accompagnato la tua crescita musicale allora diversi tantissimi diversi allora liceo ricordo che ero molto appassionato di ho cominciato ad appassionarmi tantissimo del canto autorato italiano cioè prima ascoltavo devo dire la verità i non so i artisti del momento quindi per esempio è di shiran anche justin bieber proprio all'inizio poi sono entrato un po in un'ottica musicale quindi ho cominciato ad apprezzare molto di più la musica italiana sia da un punto di vista testuale quindi magari ti parlo di fabrizio de andrè de gregori lucio dalla eccetera eccetera che anche da un punto di vista musicale per esempio negli ultimi anni mi sono avvicinato molto a anche a venicio capossela che è un artista che io stimo tantissimo dal punto di vista musicale testuale e nulla quindi diciamo ho preso diverse strade però ultimamente c'è negli ultimi anni se devo dirti quello che mi ha condizionato di più è stato sicuramente il canto autorato italiano ok e il tuo rapporto con sanremo è una manifestazione che hai seguito negli anni che hai scoperto sì no sicuramente essendo musicista e amante della musica l'ho seguito ovviamente ci mettevamo lì anche con la mia famiglia a guardarlo non lo guardavamo mai tutto perché ci addormentavamo però l'appuntamento serale non mancava e l'ho sempre visto insomma come una cosa un traguardo irraggiungibile c'è una cosa inarrivabile e mai avrei pensato insomma che adesso mi sto giocando le carte per poterci arrivare o almeno comunque sperarci prima parlavi di fiori d'inverno come un brano che potenzialmente sanremese ovvero che la vostra intenzione inizialmente era quella di costruire un brano che andasse bene per per quel tipo di di atmosfera di palco no e questo che vi ha spinto a scegliere questo pezzo piuttosto che un altro perché poi il discorso di saremo giovani che vanno presentati in qualche modo due pezzi uno rimane fuori quindi cosa ti ha spinto a proporre questo in questo contesto e a tenere da parte ovviamente un secondo pezzo un altro brano che sì il secondo brano giustamente non posso no certo chiaramente sì ho scelto abbiamo scelto questo brano perché insomma rispecchiava in maniera molto limpida la mia anche personalità nel senso che è un brano appunto come vi dicevo prima semplice infatti è diciamo non c'è una ricerca sonora no da un punto di vista musicale è un brano costituito da pianoforte chitarra acustica batteria e archi cioè molto molto semplice però era un brano che appunto rispecchiava la mia personalità perché mi ritengo una persona semplice nel senso che mi piacciono anche le piccole cose non per forza insomma la ricerca una ricerca forte e quindi nulla appunto per questo perché rispecchiava a me stesso quindi anche come diciamo come carta no per per farsi vedere biglietto da visita biglietto da visita insatto esatto mi rispecchiava al cento per cento perfetto hai avuto modo di ascoltare le canzoni degli altri colleghi c'è qualcosa che ti piace sì no ammetto che il livello comunque molto alto nel senso che ci sono brani molto molto orecchiabili e fatti molto bene diciamo che io sinceramente non me la sto vivendo troppo come una competizione cioè una competizione magari più con me stesso nel senso di cercare di far uscire il meglio di me senza per forza pensare agli altri perché poi insomma come andrà andrà io l'unica cosa che spero è di non avere rimpianti quindi speriamo insomma vada bene sei giovanissimo ma da quello che mi stai raccontando che stai dicendo sei una persona con un ragazzo con la testa sulle spalle ti chiedo se hai ben chiaro i tuoi punti di forza i tuoi punti di debolezza se sei arrivato a quella maturità lì artistica ok allora è una grande gran bella domanda non me l'ha mai fatta nessuno allora punti di forza posso dirti sono la sono la trasparenza ora ti spiego in che senso e la sensibilità anche cioè nel senso che che è quello che mi ha portato a scrivere queste canzoni quindi nel momento in cui io vado a proporle dal vivo cerco di non avere maschere cioè cerco di essere così come così come sono davvero senza cercare di né strafare cerco di essere me stesso quindi magari un punto di forza ecco potrebbe essere la sincerità artistica cioè nel senso che nel momento in cui io mi vado ad esibire cerco non cerco di essere qualcun altro sono me stesso e basta quindi spero arrivi questo come punti di debolezza che cosa difficile punti di debolezza ti posso dire in questo caso il punto di debolezza può essere il presentarsi su un palco così importante che cioè una trasmissione così importante essendo rai uno non è mai capitato di farlo è la prima esperienza importante la prima esperienza così grande certo quindi magari un punto debole potrebbe essere questo spero che non lo sarà però possiamo possiamo dire questo sai questa cosa che dici è la prima prima esperienza importante il fatto che viene da una da una piccola città è un po' anche una favola se vogliamo tu la stai vivendo così perché alla fine comunque con il tuo team con le persone che intorno la state vivendo un po come perché comunque il livello dicevi è molto alto certo sì la stai vivendo come una favola ma non ti ho detto probabilmente io ancora non lo realizzo è tutto è tutto un sogno ora però ci siamo qui c'è nel senso abbiamo superato questi traguardi che c'eravamo fissati ora che ci troviamo qui sicuramente cerchiamo comunque di giocarcela per il passo ancora più grande che se poi non dovesse arrivare insomma siamo comunque felici del traguardo raggiunto però si è tutto è tutto surreale per adesso tu sei un cantautore giovane ma sei un cantautore ami il cantautorato come c'è appena raccontato quali sono gli aspetti che più ti affascinano quando ti metti lì a scrivere una canzone c'è un qualcosa che ti fa dire ogni volta ti sorprende e ti ti rapisce un elemento una caratteristica ma allora io scrivo per bisogno quindi il momento in cui mi metto al piano cioè se non ho ispirazione io non scrivo cioè possono passare anche due mesi che non tocco e poi invece ci può essere quella settimana in cui faccio un brano al giorno quindi allora un elemento che mi affascina durante la scrittura ma il fantasticare cioè nel senso che io cerco di riportare immagini che ho vissuto oppure che immagino e cerco di riportarle insomma nella nella maniera più più trasparente possibile forse questo e qual è l'insegnamento la lezione più importante che senti di aver imparato dalla musica fino ad oggi l'insegnamento più grande probabilmente è il magari sembra banale dirlo però il non smettere non smettere mai di essere curioso cioè nel senso non smettere mai di avere quella cosa in più che ti fa dire ok però posso sempre fare meglio che però c'è qualcuno che lo fa meglio di me c'è qualcosa che posso imparare ancora di più cioè il non il non accontentarsi mai ecco cioè cerco cerco sempre infatti in ogni brano che scrivo poi nel successivo cerco sempre di fare qualcosa in più rispetto al precedente e se non ho modo di farlo vado a ascoltare musica vecchia musica nuova per magari avere nuovi stimoli quindi il non accontentarmi mai direi e a cosa si deve la scelta del tuo nome d'arte il loren scritto col tre allora no in realtà ti dirò è più semplice di quello che sembra è semplicemente un fatto estetico nel senso che io ho un nome cognome molto complesso lorenzo javagnilio che è difficile anche da ricordare molte persone addirittura lo sbagliano a leggere quindi era messo da parte abbiamo scelto il nome loren che era un diminutivo appunto della parola lorenzo e poi ci abbiamo messo il tre solo come forma artistica ecco però sì e comunque l'accento è maledetto perché io continuo a dire loren invece loren tra l'altro è il tre che che mette un attimo mette confusione e stabilizza e per concludere loren concludere l'ultima domanda che ti faccio è al di là dell'ipotetica possibilità perché in realtà è concreta di partecipare un 50 50 di accedere al festival di saremo il prossimo anno qual è il trofeo il premio la soddisfazione più grande che puoi cogliere che tendere che vorresti prendere portare a casa e cernia da questa esperienza di saremo giovani il premio il riconoscimento più grande il riconoscimento più grande allora sicuramente saprei dirtelo dopo il 19 però immaginandolo ti direi che insomma il 19 io desideramente il 100% di me e che questa cosa però arrivi alle persone che mi guardano cioè nel senso che dopo il 19 a prescindere poi se dovessi passare oppure no insomma mi venga riconosciuto il fatto che io sia stato abbia trasmesso qualcosa cioè tornare magari a esernia perché so che mi guarderanno da qui e ricevere dalle persone che mi hanno visto però guarda devo dirti la verità mi hai trasmesso questo a prescindere poi dal risultato quindi arrivare alle persone che mi guardano ringrazio loren per essere stato con noi loren loren vedi non ce la faremo mai io a prescindere dal pronunciare male il tuo nome ti faccio davvero un grandissimo in bocca al lupo per questa esperienza e buon tutto e sempre buona musica alla prossima grazie mille grazie a voi